La fame, signor pretore. A tempo pieno e orario continuato. Praticamente ero a dieta forzata. Avevo lo stomaco talmente vuoto che se mandavo giù la saliva nella pancia si sentiva l'ego di ricordi lontani. Stazionavo in cucina alla recherche di sapori perduti. Care, vecchie salsicce con la polenta. Nella dispensa una scorza di pecorino, grattugiata tre mesi prima, mi commuoveva. E mi procurava una scorticatura sulla lingua sempre allo stesso punto. Nel frigorifero c'era la scarpa che indossavo il lontano giorno e che mangiai l'ultimo piatto di fettuccine. Non mi era neanche più di conforto. Oramai solo un miracolo poteva salvarmi e quindi mi rivolsi a Loreto. Andò in pellegrinaggio al santuario? No, nell'altra stanza. Da Loreto è il mio pappagallo. Loreto, io ho un solo desiderio. Solamente tu puoi esaudirlo. Scusami, ma lascia di prendere che ti organizzo un brodo pasto con l'immortalità tua! Ma che fai? Che ribelli!